L'espressione economia circolare è entrata ormai da qualche tempo anche in Italia nel gergo comune popolare. A cosa si fa riferimento? A un modo nuovo di sviluppare il processo produttivo. Il processo produttivo tradizionale inizia dagli input e genera output e gli output generano inevitabilmente scarsi. Questa è la cosiddetta manifattura sottrattiva. Si parte per dare l'immagine a un blocco di barmo e lo scultore comincia a scalpellare, ma tutto ciò che resta viene poi buttato via. L'idea dell'economia circolare è di invertire, cioè fare in modo che non ci siano scarti. Come si fa? Attraverso processi di riciclo che richiedono evidentemente tecnologie adeguate, non è una cosa semplice, e soprattutto il passaggio dalla manifattura sottrattiva a quella additiva. Cioè dire io devo costruire una statua, comincio dal basamento, poi ci metto sopra un altro pezzo di marmo con le fattezze che servono e così via. In questa maniera dire economia circolare e manifattura additiva è un po' dire la stessa cosa, anche se evidentemente il concetto di economia circolare lo si applica anche molto oggi in agricoltura. Dobbiamo mai dimenticare che l'agricoltura finora è stata una sorgente notevole di sprechi. Basti pensare allo spreco di acqua, allo spreco delle concimazioni di varia natura e agli sprechi connessi alle raccolte al di fuori del tempo di stagione. Ecco allora perché l'idea dell'economia circolare che andrà ad imporsi richiede però in questo momento uno sforzo di investimenti, perché è ovvio che le imprese abituate all'economia lineare, così si chiama e non a quella circolare, per cambiare le proprie mappe cognitive, cioè il proprio modo di pensare e l'organizzazione tecnica del lavoro hanno bisogno di aiuti di un tipo o dell'altro. Ho motivo di ritenere che a questo si possa arrivare in breve tempo anche in Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.